Questa mattina nel corso di una conferenza stampa sono stati presentati gli interventi di adeguamento sismico e tecnologico che riguarderanno il Palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara. Erano presenti il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, i consiglieri regionali Vincenzo Dincecco e Antonio Blasioli, il direttore dell'attività amministrativa Paolo Costanzi e oltre ai progettisti Riccardo Vetturini, Carmine Brandi e Roberto Santa Lucia. La prima notizia riguarda l'auditorium De Cecco che tornerà finalmente a disposizione della città e dell'Abruzzo per accogliere convegni, manifestazioni e spettacoli dopo un lungo periodo di inattività. Un anno di lavori per un importo di poco superiore ai 2 milioni di euro che restituiranno una sede sicura dal punto di vista sismico installando un giunto strutturale con la diacente stabile della Camera di Commercio e isolatori sismici alla base dell'edificio e rispondente ai criteri di efficienza energetica. Al termine dei lavori infatti i consumi scenderanno a 100 mila kilowatt all'anno e l'amministrazione potrà beneficiare di un risparmio pari a oltre 50 mila euro. La nostra struttura tecnica dopo aver complessivamente io devo dire in maniera magnifica riqualificato tutto l'emiciclo all'Aquila si occuperà della ristrutturazione di questo palazzo che era tre fasi. La prima la totale messa in sicurezza con le più moderne tecnologie studiate e che abbiamo già applicato sull'emiciclo all'Aquila probabilmente questo diventerà l'immobile più sicuro dal punto di vista sismico. La totale riqualificazione per l'abbattimento dei costi energetici del palazzo che come vedete è tutti a vetro quindi questo ci aiuta a determinare una corretta alimentazione di nuove tecnologie e poi un regalo alla città cioè restituiremo l'auditorio un dececco qui sotto che attualmente è inagibile una sala che può ospitare 400 persone a disposizione di tutti e che credo che per Pescara sia una risorsa importante. Sono circa 2 milioni di euro credo di opere complessivamente considerate che ridaranno una sede istituzionale non solo sicura ma anche funzionale e utile e aperta ai bisogni delle associazioni culturali di tutti coloro i quali vorranno utilizzare il nostro auditorio. Nella ristrutturazione del palazzo ci saranno ulteriori spazi che saranno recuperati appunto perché parti dello stesso saranno sistemati. Questo permetterà a tutti gli organismi che ruotano intorno al Consiglio regionale che ricordano sono anche il Corecom, il Garante per i detenuti, il Garante per l'infanzia, tutte le autorità di garanzia, l'ufficio a disposizione del pubblico, ritrovare una collocazione più adeguata sia per coloro che ci lavorano ma anche per coloro che intendono regarsi verso i nostri uffici per questioni e per pratiche da svolgere. Dopo a mio avviso almeno il 50% della nostra spesa energetica verrà abbattuta ma quello che a me diciamo sta più a cuore è quanto, che percentuale di non inquinamento produciamo perché oltre al risparmio energetico vi è una non produzione di inquinanti che sono luminosi, sono il riscaldamento, sono l'approvvigionamento energetico.